Nel Consiglio Comunale di Massafra l'assessore ai servizi sociali Guglielmi ha relazionato sul piano sociale di zona che contiene misure di contrasto alla povertà per le fasce più deboli come minori, anziani e categorie protette. Il consigliere Cardillo ha esternato alcune osservazioni circa il tariffario per i servizi e la spesa pro capite del Comune di Massafra, sottolineando che la destinazione di maggiore risorse verso quel settore deve essere una necessità e non un obbligo. Sul punto è intervenuto anche il consigliere Zanframundo evidenziando che è importante seguire e verificare l'esecuzione dei vari servizi in favore del cittadino. I punti inerenti al piano sociale di zona sono stati approvati all'unanimità. Sui debiti fuori bilancio il consigliere Zanframundo ha invocato una maggiore attenzione sulla soccombenza in giudizio per l'ente. L'assessore alla polizia locale Di Bello ha parlato di soccombenza fisiologica e ha auspicato una migliore organizzazione per la difesa del Comune di Massafra. Approvati tutti i riconoscimenti di debiti fuori bilancio iscritti all'ordine del giorno. L'assessore all'urbanistica Paolo Lepore ha relazionato sul punto inerente la realizzazione di una nuova strada nella lottizzazione denominata Eredi Mastronuzzi. Il consigliere Viesti ha parlato di opera che migliora la vivibilità di quella zona mentre Castiglia ha ribadito la sua contrarietà alla realizzazione della strada non ritenendola di pubblica utilità. Circa il riconoscimento di debiti fuori bilancio alla società Universal Service approvato con 12 voti favorevoli e 5 contrari. Il consigliere Castiglia ha parlato di atto imbarazzante e ha invitato a rivedere il modus operanti della ripartizione competente delle relative procedure. Il consigliere Lattanzio ha replicato parlando di scelta necessaria in favore dell'ambiente mentre Viesti ha fatto notare come tutti siano a favore dell'ambiente ma si contesta il modo in cui è stato generato l'atto. Castiglia ha chiesto l'UMI sul contributo ancora non erogato alla festa patronale. Del Rico ha chiesto al sindaco notizie sulla situazione del punto di primo intervento di Massafra. Cardillo inoltre ha invitato ad incentivare strumenti e occasioni per aumentare la tradizione e l'identità della collettività massafrese. Zaccaro infine ha chiesto maggiore sostegno per le attività del settembre massafrese. Il sindaco in conclusione ha fornito chiarimenti e a proposito delle case popolari ha affermato che tra breve, oltre alla pubblicazione della graduatoria provvisoria di concerto con l'arma dei carabinieri sarà fatta l'immissione protetta degli appartamenti.